buongiorno a tutti bentornati sul canale oggi vi porto un altro video un video questa volta di un prodotto tecnologico non di portafogli come ho fatto a pochi video fa questa è la ista 360 go 2 la piccolina macchina da azione diciamo della casa della ista 360 questa è la scatola la confezione di vendita molto bella ma dopo la sigla andiamo a vederla più nel dettaglio e facciamo l'unboxing di questo prodotto eccoci qua andiamo con l'aprire la confezione di questa ista 360 go 2 la piccolina di casa in sta action cam con lo stesso sensore della gopro hero 9 ma su un corpo che è direi notevolmente più piccolo guardate il mio dito perché è impressionante guardate il mio dito indice a fianco pazzesco guardate questo mio dito questa laista è attaccata no da è attaccata magnetici magneticamente qua nella confezione che è spettacolo ma guardate che roba c'è questo il mio dito è incredibile togliamo la pellicolina tac mettiamola qui di fianco e zoom out e andiamo a vedere cosa c'è dentro la confezione di vendita guardate qua di lato troviamo la come si apre la medaglietta che quella per attaccare la ecco qua la ista al collo che essendo a ecco era messa qui dietro di conseguenza la ista era attaccata alla confezione mediante la sua medaglietta che è quella che poi va al collo quindi attraverso messa tra i vestiti e la ista e rimane così attaccata a camera questo è uno dei primi accessori mettiamolo qua di lato qua troviamo delle istruzioni rapide che poi andrò a vedere così per capire come funziona quindi a qui troviamo la guida del di funzionamento della ista quindi le istruzioni vere e proprie mettiamo anche queste da parte qua troviamo un accessorietto con un laccettino come vedete questo accessorio è un supporto nel quale va inserito la ista così poi la possiamo appoggiare su delle superfici ecco probabilmente iniziato a riprendere perché ho schiacciato e si è accesa la luce quindi schiacciato il pulsante qua davanti sta probabilmente riprendendo non lo so cosa perché non ho ancora visto le istruzioni possiamo appoggiare ovunque ma la cosa bella di questo supporto è che ha qui dietro un sistema tac di silicone che fa sì che possiamo attaccare questo supporto su qualunque superficie come vedete guardate anche testa in giù e resta attaccato quindi questo supporto è anche poi riutilizzabile perché questo prodotto qua in silicone dietro è lavabile si può lavare e utilizzare più e più volte ora rimetto la protezione tanto per sicurezza mettiamo da parte anche quest'altro accessorio qua troviamo un altro strumento che è una clip una clip girevole vedete ruota in differente posizioni questa clip noi la possiamo attaccare ad esempio alla visiera del del cappello la possiamo attaccare alla cintura la possiamo attaccare alla clip del dello zaino quando si va in giro si mette dentro acqua dietro c'è una etichettina da rimuovere si mette dentro la lista e si fanno le varie riprese direttamente ti avvi anche questo qua troviamo un cavo usb usb c per la ricarica e qua troviamo il case della lista quest'anno la lista esce con un case di questo tipo non ha l'aggancio come la vecchia per usarlo direttamente con iphone ma qua ha una tipo c ha una filettatura per poterlo attaccare su qualunque tipo di cavalletto ha un cavallettino incorporato ma che bello che cade no vabbè perché probabilmente non l'ho aperto ecco tac una volta aperto sta sul suo cavallettino lo potete appoggiare un po dove vi pare ovunque quando siete in giro avete un supporto qua abbiamo un monitor e qua va la lista per ricaricarsi tac inserita e in ricarica questo monitor vabbè ora c'è da selezionare connecting connesso tac ci fa vedere le tipologie di video la risoluzione il video foto pro video 1040 per 30 frame poi ci fa vedere il timelapse possiamo fare il time wrap l'hdr video slow motion e setting pro video possiamo mettere 1080 fino a 50 frame per secondo ultra wide action wide linear narrow ultra wide poi intanto si può cambiare successivamente dentro l'applicazione quando scarichiamo i video e poi don e abbiamo settato il pro video pro come ci interessa a noi il video pro è anche quello che dovrebbe tenere fisso l'orizzonte quindi l'orizzonte lever qua abbiamo la batteria se io adesso parto con una registrazione tenendola dentro il case col pro video ha vibrato ci fa vedere anche il timer e qua penso siano i minuti di registrazione in teoria io tenendo la camera così e ruotandola dovrebbe rimanere l'orizzonte fisso anche se la camera sta girando che questa è una cosa secondo me fighissima il case è molto comodo veramente bello poi stacc stoppiamo aveva fatto il video chiudiamo lei in carica e la cosa veramente secondo me incredibile è che queste solo airpods pro praticamente sono grandi e grande il case come tutte le airpods pro cioè non cambia tanto e qua vediamo la comparativa con la gopro hero 9 io girare con questa vuol dire in qualcosa di più grosso di questa ma con lo stesso identico sensore perché questo sensore qua abbiamo in più un case con un cavalletto e abbiamo in più la possibilità di usare questo case come remote control quindi se io attacco ad esempio la ista sul supportino questo lo metto da un'altra parte qua appoggiato qua mi sta dicendo connecting che si sta connettendo alla ista stop video parte il video questa la registrazione che video normali stop video seleziono pro video e avvio la registrazione la ista non è inserita dentro sta il timer facendoci vedere che sta registrando e la lucina della ista si è accesa per far vedere che sta registrando qua voglio più registrare sta stop ho finito di registrare mi prendo la mia ista che posso averla toccata ad esempio a un palo perché è magnetica e me la rimetto nel case in carica via tac pronto per la prossima ripresa in qualunque momento cosa bella in più quest'anno che ha la ista è la possibilità di andare a svitare e sostituire la lentina qua sopra in modo che se per caso ci cade o si rompe possiamo tranquillamente sostituire solo quel pezzo e in più possiamo mettere delle lenti nd per quanto riguarda le riprese con dei vari differenti luci secondo me è un prodotto è fantastico e consideriamo che costa meno della gopro ma ha una capacità una modularità una portabilità che non c'è proprio paragone secondo me è un prodotto fantastico vi lascio il link in descrizione e ci vediamo prossimo video ciao